Stati Generali del Vending 2023 sta per iniziare. Ci troviamo in compagnia di Roberto Pellegrini, il presidente del gruppo Fabbricanti di Confida. Caro Roberto, è un gran piacere rivederti. Sta per iniziare dunque anche questa edizione degli Stati Generali del Vending nel quale ci sarà anche un tuo intervento. Di cosa si tratta? Guarda, parlerò sostanzialmente dell'evoluzione tecnologica nel vending, per cui l'avvento delle app, la crescita delle app, i touchscreen, l'interconnessione delle macchine con i server, con le aziende, per cui parlerò di questo. Parlerò dei problemi che il vending vive oggi dal punto di vista tecnologico, ovviamente, per cui del protocollo di comunicazione, il famigerato ormai protocollo che ancora non si vede, ma che è ora di portare avanti. Per cui chiederò a gran voce che se Eva non si muove, si deve muovere confida a questo punto. Non possiamo più aspettare l'immobilismo di Eva. Parlerò inoltre del finanziamento, perché tutto questo ovviamente ha un costo. Per cui, visto che si parla di industria 5.0, vedere se attraverso questa forma di finanziamento di cui sta parlando il governo, si riesce anche a finanziare questo investimento tecnologico molto importante per l'evoluzione del vending. Sostanzialmente sarà questo il mio intervento. A tutt'oggi, 8 novembre 2023, non mi pare di aver visto nella bozza della nuova finanziaria 2024 qualcosa che riguardi appunto un finanziamento per le attrezzature 4.0, che oggi dovrebbero essere 5.0. È così? Sì. È così. Al momento se ne è parlato, alcuni politici ne hanno parlato, l'han dato come una cosa indispensabile per il settore produttivo italiano. Però ad oggi abbiamo parole, dichiarazioni, ma niente di concreto. E allora dobbiamo fare in modo da punire tutti coloro che sono in Parlamento, non facendogli prendere il caffè dai distributori automatici per protestare, almeno per un mese, insomma, togliergli tutti i generi di conforto che vanno a distribuire le vending machine proprio per cercare di scuoterli e convincerli ad agire in questo senso. Naturalmente la mia è una provocazione ed è uno scherzo. Ovviamente. Però certamente questa è una cosa particolarmente importante per il settore. Assolutamente sì, proprio perché il settore ha bisogno di investimenti, ha bisogno di svilupparsi verso l'uso delle tecnologie moderne. E sappiamo tutti che con 835.000 distributori in giro l'investimento è molto, molto importante. Per cui un contributo dello Stato attraverso crediti di imposta, per cui non chiediamo finanziamenti a pioggia. Non abbiamo bisogno di elemosi, ne abbiamo bisogno del supporto dello Stato per difendere una filiera che è tipicamente italiana, orgogliosamente italiana, e va difesa a livello mondiale. Noi guarderemo con estrema attenzione anche il tuo intervento su vendingnews.it a partire dai prossimi giorni in modo singolo, così come stiamo dicendo in tutte le interviste. Nel frattempo io non posso che ringraziarti e attendere che inizino i stati generali del vending. Grazie Roberto. Grazie a te e grazie dell'opportunità di spiegare il mio punto di vista. Grazie ancora, salve a tutti. Grazie a tutti.